in compagnia di paolo vedetta allora sfatiamo un mito allora non è vero che non vieni mai intervistato perché stiamo qui intervistando allora partita semplice però partito tutto corretta sportiva molto dura sì diciamo stava molto dura la partita molti tiri giocatori portiere anche il vostro molto bravo comunque una bella squadra cioè deve starci un po di movimento diciamo di fronte di squadre una che di calcio a 5 e una di ragazzi gli avversari che erano che che facevano ballone calcio a 7 esatto diciamo che comunque continuate questa marcia verso la vetta portiamo avanti queste vittorie cerchiamo la nostra squadra portare avanti fino al primo posto grazie a paolo vedetta per la futsal time market e non è trevento azze grazie a tutti grazie a tutti